Mr. Ottone Cesario, allenatore del Casabona, avete fatto bottino pieno oggi a Scandale? Certo, abbiamo vinto una partita difficile su un campo difficile, ne siamo tutti contenti, speriamo di andare avanti su questi ritmi. Un pressing asfessiante il vostro, ai punti per quanto riguarda il gioco ne mettereste chissà quanti, i gol però sono arrivati su due calci da fermo? Di punti ne meriteremmo tanti, ma abbiamo perso solo una partita, ne abbiamo pareggiati due, avremmo dovuto fare un punteggio pieno. No, ho detto di punti giocando a punti, tipo il fuggilato, se si giocasse a punti per quanto giocate in pressing chissà quanti... Però noi è vero che abbiamo segnato su due palle inattive, però siamo arrivati un sacco di volte davanti al portiere, abbiamo preso un palo, una traversa, qualche parata al portiere. Secondo me la squadra è viva, il risultato tralasciando il fatto di averlo fatto su due palle inattive mi sembra che sia più che giusto. Quindi vittoria meritata secondo lei? Certo, meritato su un campo difficile contro una squadra difficile, perché non dimentichiamo che vincere a scandale non è facile, non è cosa di tutti i giorni, anche perché è una squadra guerrita, una squadra che fa su tutti i palloni, una squadra che hanno grinta da vendere, per cui la nostra vittoria ci fa ampiamente piacere. Chi ha visto meglio dello scandale? Ma a dire la verità i vari Palermo, la difesa in particolare, sono stati tutti bravi, sono stati ragazzi che hanno giocato fino all'ultimo, sono stati forse un pochettino sfortunati, hanno preso la rete forse nel momento meno propizia, ma secondo me è una buona squadra e può tranquillamente fare il suo campionato. Della sua squadra invece chi premia? Ma io direi tutti per la grinta, l'abnegazione che hanno dato, sono ragazzi che si allenano, vogliono raggiungere obiettivi, in questo momento c'è una buona armonia in questa squadra, speriamo che le cose continuino così e poi alla fine teneremo le soldi. Ha controllato la classifica e gli altri risultati? Siete in testa? No, non credo, ma ci interessa molto, noi siamo stati costruiti non per vincere il campionato, ma per fare un buon campionato, se poi ci troviamo là, alla fine, verso la fine, poi tireremo le soldi e vediamo che cosa possiamo ottenere. Domenica prossima? Domenica prossima abbiamo il Miner King in casa. Una bella squadra? Una bella squadra con due squalificati. Mi dicono però molto fortunata. No, non lo so, vedremo domenica, ci sentiremo domenica e vi saprò dire. In bocca al lupo. Crepi.